Da oggi sono iniziati i saldi anche in Sicilia, una questione che ormai è diventata fondamentale, così come chiarito dal presidente regionale di Confessercenti, Giovanni Felice, secondo il quale se in passati i saldi servivano ad eliminare le giacenze, oggi servono a recuperare le perdite. Oramai, precisa Felice, più del 40% del fatturato si fa nel periodo dei saldi e quindi con margini minimi, se non assenti. Quindi servono riforme strutturali serie, ma all'orizzonte non si intravede chi possa impegnarsi in questa direzione. E infatti i saldi aiutano sì a vendere, ma l'oggettiva contrazione dei guadagni mette comunque in difficoltà le aziende. Diverso il discorso per chi compra. In tempi di crisi i saldi diventano un'opportunità preziosa per risparmiare sul guardaroba. Restano le raccomandazioni di sempre da parte delle associazioni che tutelano i consumatori. Occhio al cartellino dell'oggetto in saldo, che deve sempre riportare il prezzo d'origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Puoi sempre meglio diffidare di quei negozi che pubblicizzano sconti esagerati, tipo il 50-60%, perché potrebbe trattarsi di merce non esattamente nuova. Infine è bene sapere che i negozianti che solitamente accettano pagamenti con banco, matte e carte di credito, sono tenuti a farlo normalmente anche in tempi di saldi.